ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere un oggettino che è una bomba veramente è un saldatore quindi per saldare a stagno componenti elettronici fili insomma tutto quello che si riesce a saldare con lo stagno ma in un modo particolare particolare perché a me ha rivoluzionato il modo di lavorare perché lui ormai fa parte della mia attrezzatura definitiva che ho sempre sul furgone infatti ce l'ho sempre lì sul cruscotto pronto con tutto il suo kit di roba perché soprattutto in mobilità mi sto trovando benissimo con questo oggetto ma devo dire la verità ne ho comprato un altro perché lo uso molto molto spesso anche a casa questo perché perché mi capita magari di dover fare una saldatura in un posto che non è proprio dove ho la mia per carità bellissima stazione della weller con tutti gli accessori e lo spazio del caso lui è molto più comodo cos'ha di particolare questo saldatore ora ve lo farò vedere nel dettaglio analizziamo tutte le caratteristiche ma la sua particolarità è che può funzionare con un power bank con alcuni sfruttiamo appieno le sue potenzialità con altri un po meno ma avere comunque un oggetto che è molto piccolo da portare in giro insieme ad un power bank che non deve per forza essere una valigia e facilita molto le cose come al solito adesso lo spacchettiamo lo analizziamo lo proviamo vediamo un po tutti i funzionamenti bene vi spiego bene come funziona in modo semplice ovviamente prima di andare avanti iscrivetevi al canale poi se alla fine vi è piaciuto mettete anche un bel like spacchettiamo e poi lo proviamo un po abbiamo già l'anteprima del prodotto sulla confezione ts 80p versione e un caratteristiche controllo smart modalità di standby di riposo quick charge 3.0 o power delivery 2.0 da 100 a 400 gradi 12 volt massimo 30 watt massimo cosa contiene la confezione lo vediamo direttamente apertura scivolo manuale veloce in cinese una piccola presentazione in inglese dell'azienda del prodotto poi cosa abbiamo la punta viene fornita questa con la punta diciamo piccola vi lascio poi in descrizione di link per comprare anche le punte quelle più grosse piatte il saldatore guardate che gioiellino poi attenzione perché la dotazione non è niente niente male abbiamo il cavo in dotazione usb c usb c questo cavo è lungo un metro e non è un cavo normale perché è tutto in silicone quindi anti aggrovigliamento e soprattutto se per caso viene appoggiata la punta calda del saldatore sopra non si rovina come un cavo tradizionale quindi raccomando di usare sempre il suo poi abbiamo questo che sicuramente molti di voi non hanno mai visto questo qui è una cosa che io usavo una volta quando facevo il saldatore facevo i cablaggi facevo gli armadi in delle cose particolari questo quasi connette qua serve per fare una messa a terra vedete che c'è un punto di qua un punto di qua adesso questa dotazione è un po minima ma in realtà esistono dei braccialetti che servono per collegare appunto questi cavetti al braccialetto e per fare una messa a terra questo serve a scaricare le correnti che si accumulano nei vestiti acrilici sintetici le classiche volte che prendete la scossa no perché quelle piccole scosse possono danneggiare i circuiti elettronici quindi si usano dei braccialetti per scaricare a terra abbiamo poi una piccolissima brugola in dotazione e soprattutto abbiamo questo che un power delivery da 45 watt anche se lui in realtà ne tira solo 30 questo caricatore è una bomba perché fa 12 volt 15 volt 18 volt e 20 volt con questo lo alimentiamo senza problemi e possiamo usarlo anche per caricare portatili e altri dispositivi che abbiamo che richiedono il quick charge 3.0 all power delivery questo arriva fino a 45 watt vediamo velocemente la punta in sé questo modello si chiama tsb 02 ha un jack stereo come quello delle cuffie per la conduzione diciamo dell'elettricità questa parte è quella che scalda meno non è che rimane fredda però non arriva a 400 gradi come il resto e questa è la punta questo è il nostro saldatore il corpo elettronico abbiamo qua due pulsanti funzione la connessione type c un display null'altro la brugoletta in dotazione serve per svitare questa vite questo è il sistema di aggancio della punta vedete si chiama quick release perché per toglierla basta cliccare in su e la punta esce molto molto comodo serve se avete bisogno di passare ad esempio da una punta così piccola una punta più larga nel più breve tempo possibile vi faccio vedere un attimino il funzionamento una volta preso il dispositivo basta alimentarlo lui parte vi fa vedere subito la versione di firmware e lampeggiano queste due icone cosa vuol dire che se premiamo il tasto a destra entriamo nelle impostazioni se premiamo il tasto a sinistra inizia a scaldare immediatamente vi faccio vedere quanto ci mette col caricatore a 30 watt perché è una goduria vedete sta tirando 28 watt ed è già a 300 gradi dopodiché si stabilizza e il consumo scende se teniamo premuto per un attimo il pulsante di destra torna al menu e in questo momento non sta più scaldando se premiamo di nuovo il tasto destro entriamo in tutte le voci del menu le scorriamo insieme e sono temperatura di lavoro temperatura di stand by ossia quella a cui si stabilizza quando non viene usato per un determinato tempo determinato tempo che questo slip time io l'ho impostato a 60 secondi che è il minimo questo è un parametro di impostazione di potenza step di innalzamento temperatura di 10 gradi alla volta tensione sotto la quale lui non funziona se il power bank è scarico o non ce la fa temperatura visualizzata in gradi centigradi o in gradi fahrenheit utilizzo di mano sinistra left o destra right quindi rh questo è mano destra protezione dalla bassa corrente accesa o spenta e appunto se il display deve indicare la potenza o la tensione questo è per ripristinare i parametri come si cambiano i valori semplicemente quando siamo sulla voce preimpostata basta premere il tasto di sinistra per un attimo vedete che compaiono le frecce basta cambiare i valori a destra o a sinistra salendo o scendendo e aspettando poi 5 secondi lui memorizza il valore vedete vanno via i cursori e voi potete tornare ad utilizzarlo normalmente tutte impostazioni che si fanno molto velocemente molto comodamente ma se volete un consiglio io ad esempio ho trovato le impostazioni che fanno al caso mio non le ho mai più cambiate e per cambiarle un metodo molto molto più comodo e farlo col computer perché vi faccio vedere che basta collegarlo ad un cavo type c il suo o un altro non importa viene riconosciuto dal computer come una cartella dove troviamo un file di testo semplicissimo punto txt da aprire per modificare giusto quei parametri fondamentali ve li faccio vedere velocemente abbiamo semplicemente la temperatura da impostare per quando va a riposo che può variare da 100 a 400 gradi la temperatura di lavoro che varia da 100 a 400 gradi il tempo che ci mette per andare in stand by non si può impostare un valore più basso di 60 secondi gli step di incremento di temperatura la protezione per la tensione l'unità di misura per la temperatura nel display l'utilizzo con mano destra o sinistra la funzione di controllo di corrente bassa una cosa che ad esempio vedrete che ho cambiato nel mio è la visualizzazione a display di tensione o potenza io ho messo potenza per vedere quanto tira in quel determinato momento in questo modo con un semplicissimo file di testo dove andate a cambiare i valori da 1 0 ma comunque ve lo dice già lui a fianco a tutte le diciture siete tranquilli un'altra cosa che non vi faccio vedere perché secondo me non ne avrete più bisogno questo dispositivo quando è stato messo sul mercato ha ricevuto degli aggiornamenti firmware che si fanno sempre collegandolo al pc col cavetto usb però dalla 130 che ha questo dispositivo non è più stato rilasciato nessun aggiornamento quindi secondo me il problema non c'è comunque nel caso potremmo anche fare un video uno short video dedicato ora vi faccio vedere come funziona l'auto standby lo rimando in riscaldamento vedete che sta salendo lui adesso non viene più utilizzato ha un accelerometro interno che sente quando viene ripreso in mano quindi io l'ho impostato a 60 secondi l'ho fatto partire un po dopo il cronometro ma vedrete che andrà in raffreddamento vedete che è cambiata la visualizzazione lui sta scendendo di temperatura fino ai 100 gradi impostati vedete che sta continuando a scendere cosa succede se lo riprendo in mano lui sente il movimento si riattiva ora il mio saldatore evidentemente è un problema perché quando lo riprendo in mano non torna automaticamente la temperatura ma si riavvia e mi richiede la pressione del tasto per risalire di temperatura questa cosa dovrebbe farla in automatico il mio non lo fa aspetto dei feedback se qualcuno di voi lo acquisterà bene caratteristiche interessanti dati alla mano dovrebbe essere un ottimo prodotto ma alla fine salda non salda come si comporta proviamolo un po vi faccio vedere ad esempio quanto tempo ci mette a scaldare con una power bank classica con il quick charge non power delivery quindi cavetto type c da una parte e dall'altra vedete che lui si avvia correttamente come prima appena premo lo start per il riscaldamento questo è il tempo che ci mette sta uscendo a 15 watt anziché in 30 è un po più lento a salire ma io ritengo che sia comunque velocissimo e insomma assolutamente fantastico anche in questa configurazione un po meno energivora e già a 300 gradi si è stabilizzato vediamo un po come salda ok questo è un filo da uno e mezzo di dimensioni abbastanza generose vedete che salda e lo riscalda tutto vedete che lo stagno prende il rame senza problemi mi scalda un filo da uno e mezzo senza nessunissima esitazione riusciamo a fare un'aggiunta su due fili da uno e mezzo senza nessun problema e anche con le schede elettroniche riesce a scaldare a stagnarmi delle piazzole senza nessunissimo problema io ovviamente lo uso molto spesso con le strip led o congiunte di cavi molto più piccoli ma vedete che non ha nessunissimo problema due appuntini sul prodotto che non sono proprio dei dei difetti ma insomma delle cose che dovete sapere con i power bank ad esempio con il mio che vi ho fatto vedere nel video che è un 10.000 mAh si riesce ad utilizzare per un quarto d'ora di continuo circa con lo stand by disattivato con lo stand by attivato andiamo almeno a raddoppiare il tempo però ovviamente abbastanza energivoro quindi più è grosso il power bank più riuscite a garantire una buona autonomia di funzionamento il secondo difettino è che io ancora adesso non avendo in dotazione una custodia che lo contenga ho tutto buttato lì sul cruscotto ma vi faccio vedere che ad esempio su ebay ho trovato un astuccio apposta da comprare deve ancora arrivarmi perché spedito dalla cina non l'ho trovato su amazon non ho trovato altri metodi più veloci vi faccio vedere quello che ho preso io che comunque molto comodo perché almeno tenete tutto dentro e via questo prodotto appunto sei ts 80p se per caso trovate in offerta al ts 80 vi dico comprate quello perché magari lo trovate molto meno cambia che non ha il power delivery a 30 watt è una questione di tempo di riscaldamento non è che è lentissimo ci mette niente meno che il mio ts 80p quando lo utilizzo con il power bank che non ha il power delivery quindi comunque velocissimo non paragonabile con un saldatore a gas o altro quindi se per caso trovate l'ottanta andate tranquilli ora veniamo il prezzo dunque vi lascio diversi link si può comprare principalmente o su amazon dove si trova disponibile vi arriva il giorno dopo e costa 110 euro si può comprare su siti cinesi tipo banggood dove l'avevo preso uno io l'ho pagato sui 90 euro quindi c'è un risparmio di una ventina di euro cambiano anche leggermente le confezioni perché questo che vi ho fatto vedere oggi nel video è la versione di banggood ad esempio su amazon vendono la versione anche con il portastagno eccetera cambiano un pelino l'importante che in fase d'acquisto scegliete la spina europea perché altrimenti vi arriva con l'alimentatore che non riuscirete ad utilizzare il prodotto è fantastico ve l'ho già detto ve lo straconsiglio a chi è dedicato a chi lo usa per lavoro sicuramente perché io prima usavo un saldatore a gas tra l'altro penso il migliore in commercio che il dremel che però è più ingombrante meno pratico c'è sempre il problema di avere il gas dietro mettere il gas insomma prendere attaccare il cavetto nel pole bank è tutta un'altra cosa poi ragazzi scalda velocissimo col gas è impensabile una velocità del genere quindi l'ho sostituito per forza di cose lo usano molto nel modellismo lo si può usare per un sacco di cose anche se non siete professionisti o appassionati del settore se dovete comprarvi un saldatore e avete un budget un po più alto vi prendete un prodotto del genere andate sul sicuro per qualsiasi domanda io sono a disposizione metterò al video il link per comprarlo nel mio canale telegram il link di massidattoli lo troverete anche collegato alla mia pagina amazon massidattoli tech solution e mi raccomando seguitemi su instagram massidattoli perché metto sempre l'anteprima di quello che sto per pubblicare come avevo fatto ad esempio di questo video un bel like ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massidattoli ciao 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 ciao